Il 2018 è l'anno del prodotto per il piano strategico Puglia 365, primo incontro e confronto alla Fiera del Levante nel padiglione della regione Puglia, con gli operatori turistici per avviare un processo di miglioramento qualitativo dell'offerta turistica pugliese che porterà alla costruzione di veri e propri prodotti turistici. L'assessorato all'industria turistica e culturale Puglia Promozione hanno avviato un percorso di analisi e sviluppo dei prodotti turistici e hanno selezionato con avviso pubblico tre esperti che accompagneranno gli operatori in questo processo. I tre esperti hanno fatto alcune riflessioni introduttive sui trend del turismo enogastronomico, del turismo culturale e del turismo sportivo e naturalistico in Italia e nel mondo. Oggi abbiamo beni, bellezze e bontà enogastronomiche, ha affermato l'assessore regionale all'industria turistica e culturale Loredana Capone. Dobbiamo trasformarli in prodotti turistici aiutando gli operatori ad organizzarsi in reti, a usare professionalità, competenze e capacità organizzative. Le accompagniamo con analisi, informazioni, formazione insieme agli esperti e alle associazioni di categoria e in questo percorso verrà fuori la Puglia migliore, più creativa e collaborativa.